beh adesso fa lo streamer cassano non ha voluto nomi nei confronti della persona che non ha voluto nomi a comunque ce lo vediamo un attimo velocemente ci vediamo l'antefatto questo il primo video materiale c'è per far qualcosa di meglio e lui abbiamo fatto due buone cose buone cose è un uomo orgoglioso anche lui è non è che dentro non abbia preso magari il malox perché comunque ti arrabbi quando vieni giudicato e no calcio datato è stato due anni fuori non ha studiato perché queste sono le parole su allegri che tifoso hanno fatto tricherare comunque fa critica e questo ti pesa soprattutto secondo me l'ha detto anche lui a se stesso perché la prima cosa sta facendo quello che hai detto tu e il il tuo calcio cioè quello che comunque di attesa di ripartenza ma anche non si è dovuto riabituare ma è stata la forza ha trasmesso in maniera diversa la forza invece siamo i più forti possiamo giocare un calcio migliore perché parlava di tecnica parlava di compattezza di fase difensiva parlando poi di portieri quando dice no che devono toccare la palla poco i portieri se ripensa è il gol che ha preso l'udinese proprio all'inizio stagione con cesa però questo diciamo è quello che hanno detto su allegri hanno combattuto su allegri poi la battaglia da ieri sera da quanto ho capito si è spostata su messi e queste sono state le parole invece di cassano su di ieri sera bobo tv i tifosi del pari san germain devono dire al mondo intero di essere fortunati che questi due giocatori hanno scelto il pari san germain ok perché hanno scelto sono stati pagati per favore e soprattutto non ha mai vinto la coppa dei campioni è andato fuori con il rea madrid ma la cosa più vergognosa e schifosa che io ho letto questi giorni qua dove poi non faccio neanche i nomi perché come tu mi hai consigliato lele fare i nomi a questi pezzenti pezzi di mezzo di gli acchi le caculi tutto quello che noi vogliamo e posso usare anche perché è ancora più spreggevoli e più gravi si devono soltanto vergognare a dire qualcosa nei confronti di messi per quanto riguarda io ho letto in questi giorni nei confronti di messi e tre anni che cammina ronaldo a cuore anima e ha fatto sacrifici e e l'altro invece non le ha mai fatti chi ha mai detto chi ha mai saputo che messi non ha fatto sacrifici a 13 anni è andato via da casa sua per andare a barcellona ha avuto delle problematiche ha fatto dei sacrifici e invece io devo ascoltare chi dei pezzenti pezzi di merda che vanno a criticare questo ragazzo qua perché è andato fuori agli ottavi perché non ha fatto una buona partita questi qua questi finti duri pigliacchi e dili devono ricordarsi che quando si guardano allo specchio non sono neanche all'altezza di guardarsi allo specchio perché sono dei leccaculi per guadagnare qualche laico guadagnare qualche soldino questi qua leccano il culo e vanno dove va il vento e io ho letto in questi giorni questo è l'ultimo pezzo 5 6 la patria ormai sta finendo lele questi se lo devono mettere bene in testa io mi auguro che prima o poi questi personaggi qua io li posso incontrare tette a tette per insultarli e dirgli in faccia quello che io penso perché dicendo damiano andiamo a genoa damiano un attimo per favore hanno anche visibilità ma io non gliela voglio dare ma io voglio dire a questi qua vigliacchi vili e soprattutto i leccaculi che leccate il culo ci sono delle missetti grandissime straordinarie voi stessi li avete rovinati avete capito vi dovete vergognare quello che ha detto su ares che il calcio ha poca memoria questi qua devono ricordarsi che l'epoca di questo ragazzo qua il signor leo messi loro per i prossimi 200 300 anni se lo devono ricordare è questo come fanno a vivere 300 anni aspetta andrea ho trovato anche se vuoi cosa dicono di messi alla bobo tv se vogliamo beh no no perché dopo ci abbiamo anche beppe ragazzi ci abbiamo 20 minuti per parlare di questa cosa qua diciamo che queste sono state le parole io tra l'altro condivido secondo me sbaglia sempre un pochino i modi cassano però io ma noi ce n'abbiamo un altro che lo stai sì sì però da noi viene richiamato da noi viene richiamato in continuazione per i modi io non lo so io non lo so più parolacce verso nessuno ma anche lui non ha fatto nome però no no te dovresti vedere che io non ne insulto più nessuno ho cambiato un po il modus operandi mio perché cresco ok quando il signor Antonio aspetta fammi passare la volta fatemi parlare concedetemi un minuto silenzio per favore poi dite quello che vi pare quando il signore parto da un presupposto cassano parla dell'arca lui si è aperto un profilo instagram due giorni fa mette più poste cassano che ho cv sport su instagram addirittura perché mette dei post lui per cosa lo fa lui perché mette questi post perché fa le analisi perché fa le analisi effettivamente le mette uno al giorno perché non lo fa per i like il signor Antonio Cassano questo per cosa lo fa per la gloria per cosa lo fa passo al discorso su messi quindi se non la pensi come Cassano su messi sei un pezzo di merda un pezzente e un leccaculo beh detto dal primo leccaculo di Lionel Messi lo trovo coerente dammi però le parole per favore eh ho capito io uso eh ho capito ho capito io sto usando le sue parole così forse capisce sì ma secondo me è proprio è proprio il problema detto dal primo fan di Messi metto giù così sembra un po' incoerente io trovo grave sinceramente che si insulti e si denigri chi non la pensa come te su messi perché Cassano in questo caso non sta denigrando Damiano Erfaina ragazzi non me ne fotte un niente no ma oltretutto Damiano su Di Canio ha detto una falsità ha detto una falsità perché Di Canio non è scritto a nessun social no infatti non ce l'aveva con Di Canio ce l'aveva con altre persone che stanno sui social magari con me col penguin o con chi magari lo critica e fa un po' di visualizzazioni detto questo io lo trovo sinceramente abberrante cioè Messi e Ronaldo ragazzi basta sono due fenomeni sono due campioni poi può piacere uno e può piacere l'altro quello che io veramente sono rimasto sconcertato stamattina quando l'ho letto è che lui si riferisce a Di Canio e gli dice pezzo di merda lecca culo pezzente vigliato secondo te si riferisce a Di Canio eh sì ma sicuramente si riferisce a Di Canio mica lo so Damiano ma lo sai perché te lo dico subito perché perché Di Canio queste non le parole ecco ha detto di Messi che lui preferisce la costruzione che ha avuto Ronaldo la negazione che ha avuto Ronaldo per diventare come è diventato Messi e quindi a lui a lui piace è un gusto è un gusto e non è chi non la pensa come te ti vedi che è un pezzo di merda beh Damiano lui fa una cosa anche peggio dice vorrei vederlo in faccia per da tetto a tetto per insultarlo sì ma secondo me lì però ragazzi non travisiamo attacchiamoci alle parole secondo me no secondo me no cioè se tu non sai usare le parole ma ancora scusa mia gusto ma ancora qualcuno dalla chat che scrive non me conosce ancora ancora ma io non sono vedete io non sono Gesù Cristo ok ma io sui social network c'è sto da otto anni otto otto quando ancora il signor Cassano faceva gli mancava il fiato lì a donato lì a proversione no è nato lì all'entella all'entella quando correva per campo e ne la faceva a far mezzo giro di campo io già stavo sui social quindi Cassano conosce noi conosce me conosce Camelio vi preoccupate che Cassano durante il giorno non c'ha un cazzo da fare sta sempre su TikTok o su Instagram ve lo assicuro questo va beh questo non fa 100 post al giorno Andrè no no effettivamente non non pensavo mi ricordavo che avesse fatto Instagram però non pensavo che effettivamente fa un post al giorno adesso glielo seguirà un altro ragazzi comunque stiamo parlando di uno che c'è è questo Andrea però se tu ci pensi qui veramente se sta parlando vuoi più bene a papà o a mamma cioè parliamo comunque di due campioni con due percorsi diversi ma sono oggettivamente due campioni io previsco Ronaldo al 51% ma il livello generale dei sacrifici che fanno le diete il percorso sacrifici poi legati allo sport non è che vanno in miniera quindi è una bat per me ridicola quello che ha fatto Ma c'è qualcuno ragazzi di voi Mike, Ander, Francesco perché vedo che Augu e Damiano e Enrico che invece come me pensa magari che secondo me Cassano sbaglia i modi però io penso che il suo punto di vista possa essere giusto secondo me è un po' ipocrita dire che è un gioco delle parti cioè che tutte e due lo fanno per contenuti se no ti droghi o vai a fare delle vacanze non fai delle live tutte le settimane Lui allora chiaramente ha una adorazione grandissima nei confronti di Messi che va benissimo cioè puoi tenertela poi allarga anche il concetto a Neymar per i fischi della partita che c'erano stati nell'ultima partita del PSG ma sono cose che in realtà adesso coinvolgono Messi ma coinvolgevano Neymar già dall'anno scorso avete visto non so se qualcuno di voi ha visto la serie tv quella su Neymar su Neymar cioè i tifosi già all'anno scorso fischiavano Neymar perché dicevano che ormai stava giocava perché che veniva pagato però in realtà non era non era più spinto non aveva voglia di vincere erano cose che si dicevano già già l'anno scorso già due anni fa Mike? No io purtroppo ho un pensiero un po' strano vi chiedo scusa perché capisco che c'è tipo lo sconto dalle parti no da quello che ho capito certo c'è Sky contro loro quindi insomma beh questa è la ricostruzione di fanpage diciamo Mike vabbè ma sì no ma immagino che sia così però non vorrei parafrasare insomma qualcuno però mi sembra un po' una guerra tra falliti non mi interessa no non mi proprio non meno non sono d'accordo però no 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 è una città guerra tra falliti sì sì è una città del Cerbero di Greco salutiamo Davide comunque sono dei professionisti a Dani è stato mandato via Skype perché le società hanno chiesto questo c'era il virgola Mike ma a me non mi interessa delle cose loro e anche insomma la reazione Cassano a una critica sul suo giocatore preferito mi sembra un po' eccessiva nei toni infatti più che altro mi imbarazza un po' sentire cioè sentire comunque una persona adulta grande che probabilmente non lo sta facendo per lo spettacolo perché comunque cioè lo fa per lo spettacolo cioè le sparate sicuramente attirano l'attenzione e probabilmente anche quello che caria un po' caria sì certo insomma tutta la situazione però cioè visto così decontestualizzato mi sembra un po' cioè una cosa eccessiva è una persona grande scusa Mike scusa Mike puoi dirmi puoi dirmi che non ti piace Immobile so che ti piace so che è l'amore nostro no 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 lo so però voglio perché voglio far capire alla chat una cosa mi puoi dire che Ciro Immobile non ti piace no che ah così tagli il pezzo no 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 puoi dirmelo per favore non mi piace Immobile ok io adesso nella testa di Cassano tu mi dici non mi piace Immobile io ti dico Mike sei un pezzo di merda eh no ma infatti sei una merda Mike manco te posso parlare è questo eh è questo no 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 ma infatti questo no ma dammi quello che sta dicendo Mike adesso non voglio non ce l'avevo con Mike perché l'ho letto la chat no sì chiaro chiaro no io quello che voglio cioè ma non voglio fare qua sta festa perché è chiaro che è bello quando c'è il sangue è bello buttarsi in mezzo alla rissa no però cioè sinceramente a me che non interessa della faita tra questi che si lanciano i missili tra le piattaforme e robe varie cioè magari non i missili non è il momento sì no infatti non è la cosa giusta però era una no però cioè vedere una persona così grande comunque non so 40 anni ce l'avrà Cassano penso di sì esatto padre di famiglia e comunque c'ha una grossa responsabilità nel momento in cui parla e c'ha una platea un pubblico che si hanno 10.000 20.000 30.000 spettatori in quel momento ma sa che c'ha un eco mi sembra strano che tu vai però Mike scusami però Cassano è sempre sono totalmente d'accordo sono totalmente d'accordo con Mike perdonami io sono d'accordo con Mike no giusto o sbagliato ma è così non pensa proprio a queste cose ha ragione Enrico lui è proprio così è anche da calciatore no lo so allora io capisco che tu interpreti anche un po' il personaggio perché ti ho detto tu cavalchi ma non è lui guarda che è così guarda scusate voi ragazzi oh 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 non si capisce un cazzo così boh mi sembra cioè io sto gringiato cioè io ho visto questa cosa stavo in sincero imbarazzo grazie imbarazzo ma non per quello che dicono è poi imbarazzo per quello che stavo vedendo cioè tu Mike dici dal mio punto di vista a oggi sono cambiati proprio le persone da prendere di riferimento cioè quasi è quasi dire cioè non ci mettiamo a questi livelli qua ma cerchiamo di portare un contenuto su delle cose che siano diciamo un topic che siano un buon esempio ma il contenuto qual è? Messi e Ronaldo cioè chi vuoi più bene a mamma o papà il contenuto viene dai modi villani e barbari di Cassano perché il contenuto calcistico è zero perché il contenuto calcistico è ti piace più Messi e Ronaldo e come ti dici ti piace più mamma o più papà non ripete quello che dico io per favore no però ragazzi cioè vi voglio bene ma se lui non fa questi insulti non se lo fila nessuno no ma Augusto io mi diciò il problema è che lui secondo me lo fa anche inconsapevolmente non è che il ragazzo lui se sente sto cazzo lui è proprio così è scontro ragazzi ragazzi ma vi rendete conto no? non è così una volta far avvicinare Faina vai Cassano Cassano amico mio ha fallito in tutto quello che ha fatto mi dissoge mi dissoge no ma scusami ragazzi no questo no Damia dai ma scusate analizziamo un altro le cose signori ma nel calcio nel calcio Cassano ha fatto bene? vabbè assolutamente sì no no ma chiedo è una domanda mandata a Real Madrid ti rispondo io ti rispondo io ti rispondo io ti rispondo io non accavaliamoci ma questo lo riconosce anche lui che non ha espresso le sue qualità nel fondo nel mondo del calcio perfetto no poteva fare di più ma non è che non ha fatto un cazzo dai secondo me ha fatto poca roba per quanto era forte lo dico io vabbè ragazzi è stata per quanto ha fatto per quanto ha fatto poco nella sua carriera però raga parla parla danni che in serie A c'è andato per caso andiamo avanti Francesco non è potuto diventare un allenatore Cassano perché non è in grado non è potuto diventare un opinionista perché non è in grado di fare l'opinionista quindi Bobo Pieri che è un grande che gli vuole bene che è un grande gli vuole bene Bobo Pieri aspetta Franci un secondo farlo finire avrebbe potuto fare il direttore sportivo perché comunque lui è uno prego eh no Franci forse lo scout il direttore sportivo no lo scouting io mi dissocio da tutto attenzione guarda secondo me invece è un grande intrattenitore cioè nel senso tu la Bobo TV la guardi probabilmente perché no io la guardo per Vieri io la guardo per Vieri ma sì Bobo per me è un grandissimo io me lo ricordo ancora cioè io sono molto legato a quella Lazio con Bobo Vieri cioè con contrasti cioè tutta la storia del bomber quel tipo di vita non c'ha non coglie il mio interesse però per le cose sportive insomma Bobo è un grande comunque Adani ha competenza però fammi dire una cosa voglio dire una cosa importante credo ma cazzo è l'intrattenitore cioè tu te lo guardi scusate quanto più è si riconosce questo ma voglio dire una cosa no quando voi dite che lui è paraculo Augusto non è lo sai perché ti dico non è così perché lui è autodeleccionista lui va via dalla TV e paga una penale ti posso garantire che nel Mila ha preso delle multe stratosferiche quindi lui non gliene frega un cazzo no per dirti che lui non è se lui fosse furbo non prende le multe quindi lui non gliene frega un cazzo questo è vero capisce lui è così ma quando lui ti dice ti vorrei vedere faccia a faccia no no mi sembra che vorrei vederlo davvero faccia a faccia uno che lo insulta e l'altro che magari si sta a fare cioè Cassano non è no Augusto quello è sbagliato ragazzi ragazzi uno alla volta io sono d'accordo quello è sbagliato chiaro e lo porta avanti si è creato questo personaggio e lo porta avanti è così ma è ipocrita perché lui critica chi fa questo per essere un personaggio quando lui vuole esserlo è come nel calcio lui voleva essere come Maradona e invece è rimasto Cassano quindi vorrebbe essere come Damiano come Di Cagno e invece è ancora Cassano allora un attimo io sono d'accordo con Mike invece sulla parte che lo fa per Conte sono meno d'accordo con Faina invece sulla parte che lo guarda per Vieri che invece secondo me è Cassano l'anima con Adani di quel format no 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 guarda Roberto Baggio disse una frase Andrea disse e te la vado a leggere forse tanti se la ricorderanno penso e penso e penso e credo e poi non lo so penso che si riferisse proprio a ad Adani che io rispettavo tantissimo ma tuttora lo rispetto come opinionista perché c'ha delle delle skills bellissime il problema è che Adani ormai si sente Gesù Cristo ma no dai no fidate fidate frate Roberto Baggio vediamo se la trovo tra l'altro a proposito da Adani ragazzi scusa ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io Roberto Baggio disse vedo ex compagni che parlano in tv come professori quando poi in campo non riuscivano nemmeno a fare tre palleggi con le mani chiaramente si riferisce a Adani perché mi sa che ci ha giocato pure insieme ci ha giocato pure insieme a Brescia non hanno giocato insieme a Brescia no ragazzi Roberto Baggio non era detta Damiano Erfaina che è un cretino sono stati all'inter al Brescia in annata diversa Damiano Erfaina vuole fare l'opinionista ma rimango sempre un cretino questo si chiama applausi Andrea applausi ma non c'è neanche bisogno di sottolineare questo si chiama Roberto abbiamo capito abbiamo capito per chi stava chiedendo ragazzi dico alla chat lo screen di una conversazione di Adani ragazzi non la mettiamo uno perché è illegale e due perché secondo me non è neanche vera se vi devo dire la mia roba mi sembra veramente una follia tanto l'avete vista tutti su Twitter anzi vi invito a non farlo perché innanzitutto è reato fare una roba del genere e tra l'altro è anche proprio umanamente da merda ragazzi no bravo scorrettissimo quindi non la postiamo questa cosa qua di Baggio io non sono tanto d'accordo perché è chiaro che Baggio e Adani è imbarazzante il livello calcisco di Adani abbiamo quattro minuti ragazzi Adani non so neanche perché ho visto un'azione di Ronaldo il fenomeno a quarant'anni che lo umilia con un doppio passo a parte questo non è detto che secondo me come commentatore Adani è meglio di Baggio Baggio dorme quando parla bravo ma Fredi Baggio dorme quando parla ragazzi ognuno deve fare il ruolo suo era fortissimo a giocare a pallone fenomenale ma quando parla deve addormentare è come dire che da oggi in poi i programmi di calcio li devono fare Cristiano Ronaldo Messi che non fanno mai una domanda scomoda tutti quelli che hanno vinto ma Fredi lo sai scusami Andrea al volo che i post partita hanno avuto un calo pazzesco perché gli fanno tutte domande accomodanti sono tutti ex giocatori amici non c'è più il Mario Sconcerti che gli rompe i coglioni è sbagliata questa cosa certo io vi volevo chiedere una cosa ho da evitare che visto che mancano tre minuti ci fissiamo tra siamo pro Ronaldo contro Ronaldo innanzitutto come lo dico a Mike che non è è nuovo di questo salotto noi ovviamente qua Mike sappiamo che ci sono tematiche più importanti nel mondo ma noi non abbiamo le skill per parlarne quindi cerchiamo di portare dei contenuti più leggeri no no non me ne volere perché dicevi prima giustamente no 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 prima te lo dicevo perché è proprio una questione che c'è quella cosa lì non mi interessa perché mi sembra proprio una cosa tra poveri nel momento in cui c'hai tanto successo quindi Mike ha offeso tutto a CV bravo Mike belle sordie fatte no 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 però giusto per venirne fuori io vi volevo chiedere visto che abbiamo tre minuti tutti insieme cioè secondo voi al di là di Ronaldo e Messi cioè stiamo andando a dare importanza probabilmente come diceva Mike a un tipo di comunicazione che è violenta e che porta il calcio verso un mondo quasi diciamo borderline ed è meglio fare un passo indietro o fanno bene al mondo del calcio questi tipi di confronti che ha acceso ma scusami ma quanta gente mi prende per il culo su tiktok una marea e allora che io gli dico brutti brutti pezzi di merda se ne ha pensate come me oh so Dio regà io davvero negli anni ma sono presa con tutti beh quel giorno a padre io l'hai me ne acqui ma guarda io che ciasco dici ma che dici a favore come posso dirti del commento quello un po' sopra le righe eccessivo cioè si parla di calcio poi soprattutto in questi contesti dove noi siamo tifosi cioè è bello che pure sei un po' animato con lo sfottò che se ride se scherza cioè si fa intrattenimento perché poi quando tu accendi la televisione stanno in giacca stanno così bravo Mike e quindi possiamo dire se siete tutti d'accordo che è meglio cioè ben venga questo tipo di contenuto meglio la famigliarità che hanno alla Bobo TV ma se sfaciola usiamo sta parola in quel modo lì per delle cazzate cioè più forte Ronaldo un po' di no ma tu Mike ma tu non puoi di a uno che era secondo me io che c'è ho 30 ti dico cioè sto là che lo guardo e dico oddio cazzo ma Mike non gli evo di a uno a pezzo de merda quando te no no c'è proprio a livello proprio certo ma lì oggettivamente è sbagliato quello ma non è che ne stiamo a parlare dai del contenuto è una cavolata però se vuoi crea contenuto anche un po' più sopra le righe va bene non passo indietro ma a 3-4 vanno bene lo stesso chiedete a Spalletti come si comportava a Cassano ma che c'entra questo però no per dirti lui non gliene frega un cazzo la gusto ragazzi però io mi posso imbarazzare a guardare queste cose sarà una voce fuori dal coro però io lo reputo un grande esperto di calcio non solo del presente ma anche è un argomento che mi tocca molto da vicino lui è molto molto competente di calcio il problema è come quando dice Andrea che sbaglia magari i modi perché i modi nella comunicazione contano tantissimo e quelle cose che ha detto sono davvero deplorevoli e vanno condannate e un'altra cosa dove sbaglia e sbaglia siamo fuori dal tempo ragazzi è l'idolatria esagerata per Leo Messi perché bisogna essere oggettivi anche su questo va bene però dopo lì andiamo su quello che dicevamo prima secondo me io sono d'accordo diciamo con nessuno di voi secondo me ben vengano queste cose migliorare un po' i temi però ragazzi vi ricordo che in 12 anni 20 anni di televisione ci ricordiamo ancora se parliamo di interviste variale contro Zenga a oggi grazie a internet abbiamo molto più show ed è su cose più leggere peccato quando viene un po' travisato però direi di chiudere questo capitolo ragazzi chiedo scusa grazie a tutti